La settimana casinata è la scorsa. Perché? L'evento giovedì, poi dalla nostra fotografia insomma. Stasera siamo a cena. Ho fatto un polpettone di verdure e la scarola. Ci ho messo zucchine, poi ho messo la scarola, le carote e un po' di spinaci. Spiega come tu l'hai fatta perché questa voglio non sapere di sicuro. E i carciofi. Prima ho messo un po' di carciofi e poi ho rifatto in padella. Poi ho rifatto in padella, la cipolla con le zucchine, le carote e un po' di scarola. E poi ho fatto questo. Ma tutto è stato soffritto di chiedere. E le scarola, le ho aperte e poi le ho chiuso. Un po' del lavoro. Ho fatto un lavoro. Ma non quella d'arte? Eh. Ma vabbè. Poi qui ho fatto le polpettine con verdura, tofu e un po' di seta e patatine. Bene. E qui ho fatto i ceci. I ceci con gli spinaci. Grande. E allora si mangia. Eh. Ciao. 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 Questo vi piace eh? Eh. Questo è il buono.